Buongiorno a tutti, allora adesso siamo arrivati al momento, il momento, io lo so che tanti di voi aspettavano questo e appena vedrete il logo PlayStation in copertina la gente si fionda subito a vedere di cosa si tratta e vabbè, comunque, adesso vediamo appunto come utilizzare la Sinden in ambito PlayStation 1 e per l'occasione utilizzeremo il Duck Station perché, non tanto perché sia un emulatore meglio di altri ma perché semplicemente proprio la configurazione, cioè la selezione della pistola, diciamo, viene fatta in maniera molto molto semplice e quindi insomma diventa tutto quanto più alla portata di tutti, no? Quindi, niente, adesso ci guardiamo il video, come sempre, e dopo insomma ci risentiamo per le mie considerazioni finali Dunque, come sempre, vi ricordo che mi ritrovo su Windows 11 a 64 bit in versione 2022 Allora, questa volta non ho fatto un'installazione pulita dell'emulatore perché c'è un piccolo dettaglio tecnico che adesso non sto qui a spiegarvi quindi vado a riprendere quello che utilizzo io l'emulatore che utilizzo per i giochi PlayStation 1 con la Sinden quindi stiamo parlando appunto del Duck Station quindi aprite il vostro Duck Station quindi facciamo un doppio clic, perfetto ovviamente non sto adesso a spiegarvi come funziona il Duck Station ho fatto un video tutorial apposta vi lascerò poi il link in descrizione quindi emulatore funzionante, BIOS funzionanti e giochi funzionanti e siamo a questo punto Allora, cosa facciamo? Faccio qualche zoomata così magari si vede meglio Allora, andiamo su Settings e selezioniamo Controllers adesso chiaramente qui ragazzi io ce l'ho in inglese se voi ce l'avete in italiano ci sarà scritto Controlli ovviamente, Settaggi e Controlli e clicchiamo qui quindi si apre questa bella finestra allora, a questo punto cioè in questa sezione qui non dobbiamo toccare nulla magari a qualcuno di voi può essere venuto un dubbio perché oppure ad esempio Enable Mouse Mapping User of Input la sensibilità del verticale o orizzontale del mouse visto che stiamo o comunque del pointer infatti loro lo chiamano, vedete qui Mouse Pointer Source quindi mouse o comunque periferica di puntamento un po' generico qui non dovete toccare assolutamente nulla so che potrebbe venire spontaneo magari abilitare qualcosa qui però vi assicuro che non serve a nulla quindi qua non si tocca proprio niente l'unica cosa che dobbiamo fare invece che è quella più importante è questa andare qui su Controller Port 1 quindi Controller Port 1 perché chiaramente la Playstation aveva due porte di ingresso per i controller visto che siamo da soli ci concentriamo sulla porta numero 1 clicchiamo qui e vi trovate in questa situazione questo qua è il controller di base insomma del Playstation però qui abbiamo una tendina vedete dove è scritto Digital Controller o comunque se avete scritto qualcos'altro in qualsiasi caso vedete Controller Type andiamo a cliccare su questa tendina e si apre e si apre una serie di periferiche diverse quindi possiamo selezionare un'altra periferica nel nostro caso a noi interessa selezionare ragazzi Gancon ok cliccando su Gancon magicamente eccolo qua vedete tutto è cambiato e abbiamo selezionato la pistola che non è la sindina in questa qui chiaramente è una Gancon perché all'epoca si usava la Gancon era la pistola diciamo che si utilizzava con il Playstation 1 o magari esempio con Time Crisis per dirvi una cosa che avete capito questa Gancon questa pistola del Playstation 1 praticamente richiede la configurazione di 4 pulsanti anche se in realtà sarebbero 3 quindi abbiamo vedete un grilletto trigger quindi ci sarà un fuoco quindi chiaramente sparo per sparare un fuoco fuori schermo che potrebbe servire per fare qualcos'altro ok non è detto che serva per ricaricare magari anche per fare qualcos'altro dipende dal gioco e poi abbiamo due pulsanti perché effettivamente la Gancon aveva due pulsanti adesso vi mostro vi faccio un esempio con la I'm Track tanto per farvi capire vedete la I'm Track la I'm Track è fatta così scimmiotta un po' la Gancon quindi riprende la stessa estetica e anche lei ovviamente ha due pulsanti quindi una a sinistra e una a destra quindi abbiamo tre pulsanti fondamentalmente un grilletto e due pulsanti ok quindi questo è quanto allora torniamo di qua ok allora adesso come facciamo a capire ad impostare questi tasti cioè che cioè cosa dobbiamo associare al file cosa dobbiamo associare al pulsante A B allora adesso lo vediamo dobbiamo basarci ovviamente sulla nostra configurazione che abbiamo che utilizziamo abitualmente con la Sindan quindi bisogna aprire il software della Sindan e andiamo a verificare in Button Assignment adesso qui ragazzi vi ripeto io utilizzo la versione beta perché secondo me è la versione migliore è la versione ancora meglio di quella stabile è molto più semplice ma ve l'ho già detto quindi vi consiglio di utilizzare la versione beta allora questa è la mia configurazione che poi sicuramente non sarà la vostra voi non dovete copiare questa voi dovete utilizzare la vostra e poi trasportarla all'interno di Duckstation praticamente ok quello che vi posso consigliare magari è di tenere due pulsanti differenti cioè vedete io qua ho come grilletto per il fuoco il pulsante sinistro del mouse e può andar bene come grill ricarica no ricarica come pulsante off screen con lo stesso grilletto ho il tasto destro ok è un po' questo è un po' un classico quindi tasto sinistro si spara tasto destro si fa qualcos'altro si ricarica o si seleziona qualche arma comunque normalmente si parte dal tasto sinistro destro dal mouse perché di fatto se ne utilizziamo il mouse utilizziamo appunto il tasto sinistro destro con uno carichiamo con uno spariamo insomma facciamo queste cose voi potreste anche avere qualcos'altro ad esempio qui ragazzi voi lo sapete benissimo abbiamo una lista infinita di pulsanti che possiamo associare a grilletto io diciamo mi trovo in questa situazione quindi di cosa farò vado ad adattare in base a questo il mio duckstation poi per esempio ai pulsanti ho associato questi tasti qui mi ritrovo un numero uno un invio capite quindi di conseguenza stessa cosa andrò ad associare a trasportare questi tasti qui nel duckstation quindi vado ad adattare l'emulatore alla mia configurazione di base che ho su della sinden ok questo è una cosa se non è normale e che comunque vi consiglio di fare voi una volta che avete stabilito la vostra configurazione della sinden allora poi adattate gli emulatori alla sinden perché se no ogni volta dovreste stare lì a modificare i pulsanti non è più finita ok bene allora quindi io so quali sono i miei tasti e dunque qui non abbiamo bisogno di fare una configurazione tipo quella di maim cioè del tipo impugno la pistola sparo a schermo per dargli il grilletto sparo fuori per dargli l'altro tasto mi muovo per dargli le direzioni quindi utilizzando sempre proprio fisicamente la sinden questa volta in questo caso non c'è bisogno anche perché io so quali sono i miei tasti quindi basta semplicemente che li associo qui dentro allora e come facciamo quindi ci armiamo di mouse in questo caso quindi non di pistola che non ci serve in questo frangente e quindi abbiamo trigger ok trigger file questo qui è sparare con il grilletto quindi premere il grilletto sparando a schermo quindi premiamo sopra con il tasto sinistro del mouse ci chiederà di impostare un tasto e premeremo il nostro tasto che abbiamo nella nel button nei button assignment che abbiamo dato appunto la sinden quindi io ho il tasto sinistro del mouse quindi cliccherò qui mi chiede di premere un tasto e ripremo il sinistro e lui ha preso vedete pointer zero va bene left button ok tasto sinistro e va benissimo per l'off screen io ho in questo caso impostato il tasto destro quindi gli associerò il tasto destro quindi premo il sinistro e poi premo il destro perfetto e lui mi ha preso vedete il right button e siamo giusti adesso ci consentiamo un attimo qui sui pulsanti io so che un tasto li ho associato al numero 1 a un pulsante della sinde a un altro pulsante l'invio quindi io sfrutterò quei due pulsanti lì quindi magari al tasto A gli do 1 quindi premo con il mouse poi premo 1 sulla tastiera vedete keyboard 1 1 e per il tasto B gli darò l'invio in questo caso quindi premo sinistro poi gli do l'invio della tastiera ok basta diciamo che io sono a posto la mia configurazione è stata fatta non dobbiamo dargli nessun movimento di asse X ed Y e niente quindi diciamo che possiamo già siamo già pronti per giocare vi faccio solo una raccomandazione se utilizzate come me in questo caso i tasti del mouse sinistro e destro per sparare o fare altro vi conviene fare questa cosa qui quindi adesso qui gli diamo close lui comunque si è salvato andiamo in settings general ok qui dovete stare attento a questa cosa restiamo in questa scheda general è importante qui verificare che sia tolta la spunta su double click toggles full screen altrimenti cosa succede che se noi voi fate partire il gioco in full screen poi cominciate a sparare vedete che diventa in finestra poi sparate ancora diventa grande perché di fatto noi è come se stessimo facendo un doppio click con il tasso sinistro quindi di conseguenza togliendo questa spunta qui non ci dà il problema di tornare in finestra perché è una cosa fatta apposta è una cosa è una cosa un po' rapida facciamo doppio click e torniamo in finestra doppio click e ritorno in full screen ok quindi comunque togliamo questa spunta che non ci sia altra cosa che vi posso consigliare è anche questa di spuntare questa quindi hide cursor in full screen vuol dire che in full screen giocando in full screen non ci farà vedere il puntatore del mouse quindi meglio perché comunque non serve la sinda è molto precisa quindi dove noi miriamo lei spara perciò non abbiamo bisogno di avere il puntatore del mouse poi comunque vi faccio vedere un'altra cosa quindi via questa spunta qui e teniamo questa spunta qui queste sono quelle due più importanti sempre se il double click stiamo utilizzando i tasti sinistra e destra del mouse se invece alla sinda in cui ad esempio avete associato dei tasti da tastiera non c'è bisogno di farlo perché comunque noi non stiamo premendo il mouse stiamo premendo qualcos'altro quindi non diventerà piccolo o grande ok bene detto questo possiamo provare a vedere se funziona ok quindi la guncon c'è perché è stata inserita diciamo controlliamo di nuovo settings controllers controller qui lo vediamo già porta uno guncon ok vedete c'è già siamo a posto e adesso non ci resta altro che provare quindi vado ad abilitare la sinden quindi gli diamo start aspettiamo un secondo che si colleghi mettiamo la cornice la famosa cornice bianca il bordo bianco eccolo qua vedete bellissimo molto fine perché non serve usarlo spesso tra centimetri ma le persone ovviamente non sanno queste cose perché non provano abbassiamo qui e facciamo partire un gioco tipo time crisis project titan non vado ad utilizzare il time crisis classico perché quello lo uso su main perché secondo me la versione arcade è molto meglio ma secondo me è occhio nudo si vede che è molto meglio quindi comunque lasciamo perdere proviamo questo gioco qui intanto doppio clic facciamo un fresh boot ecco già si vede una cosa qui si vede questa specie di anzi questa specie questo crosshair ok questo mirino vediamo se effettivamente si effettivamente si muove si sta muovendo è giusto che sia così eh e poi vi farò vedere come andare a togliere questo questo crosshair qui perché vi ripeto non c'è bisogno quella sinden anche perché se usiamo questo andiamo un po' a falsare l'esperienza di gioco ok diventa più brutta perché siamo guidati dal crosshair quindi in questo caso difficilmente possiamo sbagliare ok anzi ve lo faccio vedere subito dai quindi usciamo da qui e vediamo come eliminare questo crosshair qua quindi esc vabbè adesso qui usciamo close game usciamo perfetto allora e dunque andiamo sempre in settings controllers controller porta 1 quindi torniamo qui dentro mettiamo grande ok qui adesso andiamo a cliccare su settings perfetto vedete qui allora diciamo che abbiamo la possibilità di gestire un po' quel crosshair là allora se vogliamo e se ci piace giocare col mirino ok col mirino virtuale possiamo anche volendo cambiarlo associandogli qui un'immagine che vogliamo noi ovviamente preparata apposta ma questo a me non interessa quello che mi interessa qui ad esempio è questo crosshair image scale adesso qui è la grandezza del mirino è impostata su 10.000% ok va benissimo evidentemente l'immagine originale sarà molto piccola non lo so però se vogliamo eliminarlo basta semplicemente selezionare qui e dargli 0 ok proprio 0% gli diamo close in questo caso adesso facendo ripartire il gioco facendo ripartire il gioco non si vedrà più quel mirino che vi ripeto è totalmente inutile perché la scene è molto molto precisa quindi facciamo un doppio clic facciamo un avvio normale vedete che non c'è già più non si vede più aspettiamo un attimo che parta poi la cosa la cosa bella secondo me dei giochi da sparare della playstation diciamo è che ti fa fare la calibrazione cioè te lo fa fare nell'immediato ogni volta che vi il gioco ti chiede scusa un attimo fermo a fermo lì prova a sparare in mezzo al mirino al centro vediamo così di calibrare un po' la tua pistola che non è male non è male perfetto vedete questa è la situazione adesso mi sposto un po' indietro sparo al centro ok così per me va benissimo e quindi adesso ci dice niente premere il pulsante A o B insomma per finire quindi premiamo il tasto qui i famosi tasti A e B ok poi io adesso qui nel mio caso li ho associati ai tasti questi due tasti qui sinistri ok della pistola ok proviamo a partire spariamo ok andiamo avanti ok perfetto ok adesso qui consiglio consiglio di tenere se avete un monitor in 16 noni di tenere la cornice in 16 noni anche se il gioco in 4 terzi perché se io vado a mettere 4 terzi la mira si sfalsa ok quindi tenete 16 noni e vedrete che siete perfettamente in linea ok proviamo ok vedete il mirino il crosshair non c'è più quindi diventa esperienza giusta di gioco come deve essere ok perfetto quindi raccomando la cornice di tenerla in 16 noni non in 4 terzi non vi ho detto un'altra cosa ma adesso vi dico anche questa ok allora ovviamente ad esempio questo gioco richiede il pedale pedale non c'è però poi dipende sempre dal tipo di gioco ma in questo caso dove c'è un gioco che richiede il pedale praticamente voi dovete fare riferimento al pulsante A quindi il pulsante A sarà praticamente il vostro pedale ok quindi di conseguenza io premendo il pulsante A che poi per me è questo qui diciamo mi fa il discorso di ricarica come se premessi il pedale ok ecco non c'è tanto altro da dire adesso proviamo magari un altro gioco al volo facciamo tipo gunfighter anche questo un gioco molto carino facciamo fresh boot cornice sempre in 16 noni aspettiamo un po' vediamo se magari sì premendo vai passiamo un po' ok come fa selezionare no non lo so se l'ho selezionato comunque vabbè non importa tanto è solo una prova per vedere se va il gioco ok anche qui ti fa fare la calibrazione quindi ci spostiamo e miriamo perfetto ok così va bene premiamo uno dei pulsanti ok facciamo play the story no facciamo arcade dai via proviamo con arcade ok questo funziona un po' come time crisis quindi si preme il pulsante per ricaricare insomma sparare per poter sparare ok adesso non sto qua a fare troppo gameplay sennò il video diventa lungo comunque il gioco funziona perfettamente ok chiudiamo ok ecco quindi allora diciamo che questo è quanto non c'è tanto altro da aggiungere stoppiamo pure quindi dovete semplicemente andare ad associare i tasti che avete scelto per la vostra sinde li riportate e poi ovviamente all'interno qui del della ganko ok e basta insomma tutto qui ok video finito allora secondo me bellissimo comodissimo tanto avete visto basta semplicemente dirgli guarda voglio utilizzare la ganko benissimo e siamo a posto quindi veramente veramente semplice quindi io sinceramente non ho tanto altro da aggiungere quindi se vi è piaciuto il video mettete un like se vi piacciono i video che faccio iscrivetevi al canale attivate la campanella così quando pubblico qualcosa di nuovo vi arriverà una notifica se volete seguirmi su Twitch faccio anche delle live e niente ragazzi con questo è tutto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima